Francesco Di Mauro grazie è vero Francesco ma che fai sempre con questo cellulare adesso devo fare proprio la canzone perché è molto significativa è significativa come quella di prima esatto questa qua ha invece del messaggio questa è una delle prime canzoni io non voglio dire quando l'ho depositata alla CIA ma sono sicuro l'importante è che è depositata sono sicuro di me non ho capito ah scusami adesso sente? volevo dire che questa qui è una secondo me delle prime canzoni registrate in messaggi in sms perché quando io scrissi questa canzone si portava ancora quel cascione appresso vi ricordate? quel cascione che si metteva dentro la macchina che c'erano quelli cellulari grossi grossi e là qualcuno altologato già faceva i messaggi in sms alla ragazza sulla spiaggia gente che soldoni faceva il messaggio e guardando a lui disse voglio farci una canzone a questo e scrissi questa canzone voglio dire solo questo voglio salutare di nuovo il maestro Cire De Rosa a Casoria del centro Mazzartum mi raccomando che lui ci tiene molto e voglio salutare la signora mamma rosaria di Fonticelli con tutta la sua famiglia che bello e un saluto anche alla famiglia va bene? grazie allora ascoltiamo questa bellissima canzone si grazie l'hai depositata sicuramente alla SIAE perché qua ti sentono molte persone si si non vorrei insomma no 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 come si chiama questa canzone? si chiama messaggio in sms ok ascoltiamo ecco perché sono sempre il tuo Francesco Di Mauro messaggio in sms messaggio in sms mi ricordo che sulla spiaggia un bacio mai dato e sono stato folgorato dal tuo sorriso dalla tua pelle arrossata al sole un messaggio mi mandavi al mio cellulare se mi spostavo per prenderti un gelato che ci rinfrescasse dal nostro amore sull'asciugamano gli stesi sulla sabbia ti abbracciavi a me e mi baciavi sulla bocca mi giuravi che è l'isola per me e che nessuno mai ci avrebbe più divisi il tempo è brutto e non sono qui a casa mia ad aspettare un tuo messaggio per poter uscire ma tu mi scrivi che non è possibile io sto pensando che è solo una scusa che tu non stai nemmeno studiando e aspetti che mi scoccio e ti lascio andar via io non so dimenticare quest'estate tutti insieme al mar le promesse che mi hai fatto tu tutti quei baci che ci siamo dati io non posso pensare che questa storia finisca così io ti amo sai e non posso dimenticare che ti abbracciavi a me e mi baciavi sulla bocca mi giuravi che eri sola per me e che nessuno mai ci avrebbe più divisi ti prego dai sto aspettando un tuo messaggio in sms ma cosa scrivi che fra un'ora appena è il tempo di prepararmi e sono lì davanti a te davanti a te amore mio fra un'ora lì insieme a te te va bravo bravo grazie grazie ma prima grazie scusami prima hai nominato sì volevo volevo ringraziarvi per questa vostra gentilezza veramente ho conosciuto un grande personaggio mi ha fatto molto piacere anche per Magra già ti ho chiesto l'amicizia già ti ho chiesto l'amicizia questo è il disco online che è presente in tutti i siti musicali del mondo in qualsiasi spot itunes eccetera tutti gli altri uno le regala anche la gara alla bellissima grazie è stato un piacere mi avete fatto molto piacere grazie a voi saluta grazie di tutto salutemi caramente il maestro Ciro De Rosa un bacio e un bacio grazie a te grazie di nuovo sì sì ok buonasera grazie a te grazie a te grazie a te